ok risettato come se sia normale allora noi quando accendiamo normalmente vediamo al coso blu e qui come se dovrebbe funzionare non metto che allora dunque per entrare nel test mode che fai tasto sul display che non fa nulla ovviamente ma chiudi tenendo sempre venuto a quel punto rispingi eccolo lì che ti viene fuori il test mode a questo punto prendi ecco ho spinto troppe volte un attimo riproviamo ok adesso mi spingiamo qui questo forward sotto ok quindi con quello sopra rivai sul test mode però per accedere accendi con questo tac on e a questo punto vai sugli altri con questo di file check con l'ikion a questo punto uno che fa prende chiude si riaccende senza bisogno di spingere il display chiudi ti accorgerai che si tratta nel test modo quando questi incominciano girare ecco